Due secondi, questo è il primo dei due. Questo è il primo dei due, dunque questo è un azzardo. Anche il primo? Beh sì, questo è un azzardo perché sicuramente i puristi storceranno il naso, perché qui abbiamo il mare, abbiamo la terra e abbiamo la carne di maiale. Quindi abbiamo il pesce, che è una maionese di canocchie. Adesso ti spiego come si fa. Un altro inedito. Un altro inedito, no, non tanto. Allora, questo tipo di pesce, i crostaci in genere, tipo le canocchie, i calberi. Canocchie, sono quelle che a basto si chiamano panocchie. Panocchie, esattamente. Specialmente nella testa hanno l'albumina, che è quello che contiene il bianco d'uovo. Quindi qui ritorniamo all'addensamento alla maionese. Che cosa si fa? Siccome si tratta di, noi lo facciamo col pesce crudo, il pesce innanzitutto deve essere fresco, quindi deve essere vivo. Poi va abbattuto in abbattitore, non congelato. Che congelato sì, ma arriviamo a meno 12, meno 15. Deve essere abbattuto da meno 22 in giù per un paio di giorni. Perché anche su queste cose ci sono termini di legge molto, ma si fa per una questione di salubrità. Viene abbattuto e poi viene frullato con un mini pimer. Io qui ho aggiunto, visto che si tratta di maionese, quando si fanno le maionesi si aggiunge il limone, ma ritorniamo all'antagonismo. Si aggiunge il limone, qui ho semplicemente aggiunto, per aromatizzarla, un po' di olio all'arancio. Che è un olio locale di queste zone, oltre a di Fossa Cesia. Non dico chi è che lo fa, perché altrimenti poi la faccio pubblicità. Chi è che nell'ambiente sa di cosa sto parlando. Quindi abbiamo questo sapore di mare, con questo sapore fruttato e questo retrogusto di arancio. Tempo di preparazione di questa maionese? Questo è il tempo che lo devi abbattere, poi stacchi la testa, frulli. Una cosa però, non è che è finita qui. Il lavoro più pesante è passarlo allo shinoise, che è il colino cinese. Perché allo shinoise, siccome quando tu lo frulli ci sono i pezzettini di carapace, eccetera, eccetera. Allo shinoise invece riesce proprio la salsa libera. Differenza dal colino italiano? Per un profano come me? Dal colino italiano è che passano i pezzettini di carapace, i pezzettini di spine, eccetera, eccetera. Quindi quando tu lo mangi rischi di strozzarti, capito? Mentre in questo modo tu c'hai proprio la salsa, perché questo è proprio l'interno della canocchia. Si può anche fare con i gamberi rossi, abbattuti, non congelati. Quindi freschi, abbattuti. Questa maionese con che cosa si sposa? Allora, questa è una base, io l'ho messa come base, quindi abbiamo il freddo, qui giochiamo con il freddo ed il cotto, il pesce e la carne. Diciamo, le proteine del pesce nobili che sono molto, non sono così sature o grasse come può essere lo stingo di maiale. Quindi c'è questo contrasto. L'ho abbinato, questo è un tortino di cascigni. Questa è un'erba storica in Abruzzo, ma non solo in Abruzzo, ma nel meridione. Perché è la prima erba che nasceva dopo i porbardamenti, la seconda guerra mondiale. Quindi da gente a quei tempi andava proprio alla ricerca di questa erba. Ha un odore fantastico, a metà tra l'asparago selvatico e il pungitopo, quando tu la cucini. È un sapore unico. E cucinandola oggi mi ha fatto ripensare a quello che noi abbiamo perduto. Perché non è facile da trovarla, perché quello deve andare nei campi a raccoglierla. Chi è che lavora giustamente, non ha tempo. E poi non è un'erba... Tu l'hai raccolto di persona? No, questo l'ho trovato grazie al parrico di Castelguidone. Io ringrazio pubblicamente che mi ha fatto trovare questa sterbetta così. Diciamo anche il nome. Don Alfredo, credo si chiama. Perfetto. Dunque, abbiamo fatto questi cascigni, li abbiamo bolliti, sbollentati. Li abbiamo tolti poi. Li abbiamo coscierti così, in purezza. Di solito si fanno saltare con un po' d'olio, un po' di aglio in camicia, un po' di peperoncino oppure di peperone crusco. E poi gli abbiamo aggiunto del semplice prane di casa, sbriciolato a mano. E questa è in realtà una mozzarella di quelle però un po' passite, non che contengono molta acqua. E abbiamo fatto questo tortino da accoppiare con lo stinco di maiale. E con la maionese. E con la maionese. Il tutto si sposa, torniamo di nuovo all'arancia. Questa è, e qui c'è un'altra cosa ragazzi, questa è polvere disidratata di buccia d'arancia. Guarda che odore, perché mi dispiace per voi che non potete... Io lo sento. Sì, è proprio intenso. Allora, come si fa? Si prende la buccia d'arancia, l'arancia è belle, quelle vanigliate, belle polpose che hanno molta buccia. Si toglie solo la buccia, non la parte bianca, perché altrimenti prendiamo l'amaro. Si dovrebbe mettere in essiccatore a 68 gradi, dalle 8 alle 12 ore. Io però mi sono aggiustato con il forno, con questa sondina, che io mi mantengo la temperatura giusto quando vedo che sgarra di qualche centigrato, me la vado a regolare. Quindi tra 68 e 70, 11 ore, viene questa polvere aromatica che è fantastica. Che si abbina meravigliosamente alla carne di maiale. Il tutto poi accompagnato dal nostro meraviglioso aceto balsamico tradizionale abruzzese, che è il mosto cotto, insieme al sugo, alla salsina, che esce fuori dagli umori dello stinco. Poi naturalmente con le erbe che noi abbiamo messo, con il sedano, con la cipolla, poi le trattiamo con un po' di limone e di acqua. Facciamo con qualche anche erba aromatica, rosmarino. Lo facciamo andare, lo facciamo ridurre di due terzi abbondante e poi lo filtriamo, lo filtriamo e lo facciamo ridurre ancora fino ad ottenere questa salsina. Questa salsina, scusate, questa salsina così, che ha proprio quello che in gergo i tecnici definiscono demiglass. Ecco, i fondi. E già io mi sono ubriacato solo con questa Roma qua. E già io mi sono ubriacato solo con questa Roma qua.